Una sala tirata a lucido ha accolto i 1300 soci della Banca Popolare di Lodi per l'Assemblea dell'Area Toscana e Umbria. È in assoluto la più affollata convention organizzata in città e per questo si è scelto di farla al Polo Fiere di Sorbano, in grado di sostenere l'impatto anche in termini di infrastrutture. A fare gli onori di casa il Vice Presidente del Comitato di Divisione dell'Area Lucca, Pisa e Livorno e il Direttore Territoriale della Cassa, Silvano Piacentini. Ci rende davvero orgogliosi la partecipazione dei soci della Toscana e dell'Umbria. Oggi ci sono quasi 1300 persone che sono venute a sostenerci in questo momento difficile e la presenza di queste 1300 persone ci dà ulteriore forza per continuare a stare sempre più vicino a famiglie e imprese che è un po' il nostro mestiere di banca, di banca locale e lo dobbiamo fare sempre con maggior attenzione visto la situazione attuale. All'interno della struttura è stata specificatamente allestita un'area di 5000 m2 con una platea per 1500 posti a sedere, tre grandi schermi per la diretta video con le tre sedi di Verona, Lodi e Novara collegate per poter effettuare in diretta e in teleconferenza le attività della giornata. Previsti anche due generatori per energia elettrica e quattro OPS per assicurare la corrente in ogni condizione di tempo. Come è prevedibile tantissimi di questi soci resteranno a Lucca e dintorni per il weekend scegliendo alberghi e strutture del territorio e visitando la città. Soddisfatto il sindaco Favilla, quello di oggi dice è un esempio di quell'offerta convegnistica e congressuale altamente qualificata che Lucca è in grado di attrarre e soddisfare proprio grazie alla presenza del polo fieristico. In effetti non ci sono altri spazi di questo livello in città e nel comprensorio dove poter ospitare un simile evento di portata nazionale. Fino ad oggi lo spazio convegnistico più grande infatti era l'auditorio di San Romano da 450 posti.